Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo una lente per ispezioni con 8 ingrandimenti. Si tratta di una lente molto luminosa, dato dal diametro da 30 mm. Permette di andare a vedere dei particolari ed è costituita da due lenti in vetro racchiuse in una struttura in metallo nero. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il nostro prossimo video.